Lo scopo di questo appello è quello di porre il focus su delle tematiche che stanno a cuore alla maggioranza, non soltanto degli istituti, ma soprattutto degli elettori del Partito Democratico, su questi temi e non vogliamo che vengano annusi nella fase congressuale, vogliamo che questi temi vengano affrontati, vengano dibattuti nel prossimo congresso. Il primo tema che per noi è fondamentale è quello della riconciliazione del partito, del rinnovamento e dell'unità del partito. L'unità del partito che non è una chimera ma va costruita attraverso un processo che ripristini la pratica inclusiva e democratica che dovrebbe essere l'anima del nostro partito e che spesso è stata elusa. Inoltre noi vogliamo lavorare affinché il Partito Democratico torni in quei luoghi dove i cittadini... Grazie.